Ciao e bentornati in un nuovo video assaggio bene si cari e care dopo tante richieste eccomi di nuovo qua oggi assaggiamo insieme i nuovi coni comprati a Lidl con gli Oreo ma tutto questo dopo la sigla e allora eccoli qui noventà che ho visto da Lidl e non ho saputo resistere per fortuna sono in formato piccolino così il danno è piccolino allora eccolo qui il mini coni Oreo siete super curiosi di assaggiarlo come me sì perché è veramente carina l'idea sono veramente piccoli ragazzi piccoli quindi sono dei piccoli peccati di gola ecco una volta aperto come si presenta qui proprio sulla parte superiore del gelato c'è il biscotto Oreo guardate assaggiamo e vediamo un po' se è buono oppure no delizioso perché non è molto zuccherato si sente l'Oreo il biscotto ma è un equilibrio di sapori molto molto piacevole do un altro morso per riuscire a sentire anche la cialda del cono ragazzi e ragazze promossi a pieni i voti sono buonissimi sono piccoli non sono estremamente dolci per cui questi piccoli peccati di gola ve li consiglio si provateli andate da Lidl e provate i gelati Oreo perché sono veramente molto molto buoni bene ragazze il video assaggio termina qui vi mando un bacio grande e io continuo a gustarmi il mini cono è molto buoni è molto buoni proprio spettamente un po' 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 Grazie a tutti.